ridatemi una mano ridatemi una mano se vi fa piacere ad avere ciò che era mio non per nulla questo canale aveva quasi il doppio degli iscritti la bla 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 sapete sono dovuto ricominciare ho ricominciato da capo mi sono successi tutti i colori su youtube da quando ci sono continuamente veniamo siamo stati minacciati siamo stati additati come cialtroni ci hanno dato di truffatori ci hanno definito in tutti i modi ci hanno dedicato anche un angolo siamo offesi e derisi da più di un anno ma finalmente finalmente soprattutto per quanto riguarda qualcuno forse più di uno smetteranno di chiedere i soldi ai tifosi dell'inter e andranno a lavorare si guadagneranno i soldi andando a lavorare perché hanno detto una miliade di cavolate vi ricordo a zangra doppia vi ricordo a digital biz tutto a posto vi ricordo mercati da nove mercato da undici ti volevano far passare per un fuori classe eh a cerbi anche se ora perché ha giocato bene una partita a cerbi contro una formazione dove io da fermo potrei comunque risultare pericoloso in area come boa come ti pare ma comunque potrei risultare pericoloso in area io contro quella squadra che ha giocato l'inter l'altra sera perché le partite dove ti devi misurare sono altre per nulla ragazzi guardiamoci chiaro tutti gli scontri diretti ad oggi l'inter gli ha persi quindi sarebbe anche l'ora di incominciare a vincere i scontri diretti lascia perdere i giapponesi ti ho detto questo è un consiglio che ti do io ma che ti vorrebbero dare migliaia di persone lascia perdere i giapponesi che non c'entra nulla con la verità lascialo perdere lascialo stare lì dov'è lascialo buono lì allora il discorso qual è il discorso è questo quando 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 l'inter ha preso Lukaku che è un cacciatore vedi vedi lì dietro lì dietro c'ho una maglietta firmata da lui quindi se mi sono fatto firmare una maglietta l'ho comprata a suo tempo primo anno di Lukaku all'inter è perché scontato di il vi è un giocatore che io ho sempre apprezzato molto ora non è il mio centra ma allora il mio centravanti ideale poi voi ora mi direte facile mio centravanti ideale Milito Suarez il pistolero quello del Barcellona Lewandowski sono quelli centravanti lo stesso filmino del Liverpool che a me piace tantissimo piacciono tanto i centravanti tecnici Lukaku e la tecnica non ha la sua arma migliore ma è comunque un grandissimo centravanti però per farlo rendere al massimo ha bisogno di determinate diciamo bisogna tu lo metta a suo agio e tu lo faccia esprimere delle cose sa fare meglio quando è arrivato quest'estate io ho detto ci saranno due giocatori che secondo me non renderanno mai come con parrucca che sono Barella e Lukaku ad oggi Barella è spesso criticato parliamo di due grandissimi giocatori cioè premetto questo ci mancherebbe non sono matto e io dissi che Barella e Lukaku con i zaghi non avrebbero reso mai e poi mai come con parrucca perché molto semplici una squadra dove te vuoi proporre gioco offensivo vedi un po' che è il Chelsea di Tuschel che è stato esonerato Lukaku secondo me c'entra poco almeno che tu non gli metta dietro Hazard o De Bruyne nel Belgio che comunque gli scrivono sulla palla buttala dentro e che va bene ma non tutti hanno Hazard, De Bruyne e tutti i fenomeni che hai Belgio davanti no? Quindi bisogna direi un contesto particolare a Lukaku per farlo rendere questo è il contesto De Bruyne e Hazard nel contesto in cui tu lo voglia far giocare un po' più in area ma se non hai Hazard, De Bruyne, Modric e ne so questi giocatori qui capito? Se non hai questi giocatori qui bisogna che ti ha questi giocatori tu gli dia campo a disposizione perché se a Lukaku non gli dai campo a disposizione e lo lasci fermo in area diventa marcabilissimo Maguire quello del Manchester addirittura non gli fece vedere palla in una partita cioè capito diventa un facilissimo punto di riferimento Lukaku se te non gli fai mangiare un po' il campo anche perché nelle prime palle non è eccezionale negli stop spesso la capo lo stinco e la butta un metro per farlo essere letale Lukaku bisogna e tu giochi in una maniera particolare per farlo diventare letale ovvero sia innanzitutto lo devi trattare un po' come Aristoteles gli devi fare il ragù lo devi coccolare perché è un bambinone l'abbiamo visto che è un bambinone no ma perché è un bambinone te lo spiego io io gli voglio bene a Romelu eh oh tanta roba avere Lukaku ragazzi intendiamoci bene ma io voglio fare un ragionamento diverso da il solito quando lui bascia a parte quando ha basciato io il lo scudetto dei Chelsea cioè quando lui va al Chelsea per la terza volta dopo due mesi Tuschel gioca totalmente diverso da quello di parrucca Tuschel non impronta tutto il gioco come parrucca su Lukaku Lukaku dura fatica se lo fai giocare in aria e gli togli gli spazi nello stretto prima che si giri Lukaku ci mette un'ora in mezzo se poi ci abbini anche il fatto che lui tecnicamente non è Milito o non è Suarez quello del Barcello che era Barcellona è normale due di fatica cosa fa viene fischiato dai tifosi va in panchina e lui osa fa chiama la mamma la mamma è l'Inter voglio tornare meno male poi ha chiamato la mamma e ci mancherebbe un'altra tipologia di giocatore mentalmente forte osa fa dice no è la terza volta che vengo qui sono Lukaku sono uno dei centravanti più forti ci sono in Europa io fino a che non prendo il posto da titolare mi alleno 27 ore al giorno invece lui non l'ha fatto perché mentalmente non ha non è cioè Lukaku sì in campo risulta leader ha un atteggiamento positivo umile aiuta tanto i compagni ma mentalmente non è forte un giocatore per quello bisogna che tu lo assecondi anche in campo facendogli capire che è fondamentale per il tuo gioco con il gioco di zaghi non è così indipendentemente dall'infortunio dallo staff e a questo allenatore anche dallo staff dell'Inter quindi per come la vedo io parte il fatto che anche lui deve migliorare gli scontri diretti perché anche con parrucca Lukaku era decisivo tante volte spesso con le squadre di piccola media fascia e poi negli scontri diretti un po' zoppicava no ma lui lì può migliorare l'importante è cercare di metterlo nelle condizioni in cui lui possa esprimersi al meglio e secondo me ad oggi tatticamente nell'Inter Lukaku è messo in una posizione dove non si esprimerà mai al meglio perché tocca in quel gioco là lui è sempre fuori dal gioco tocca poi i palloni e poi i palloni che tocca le deve buttare dentro non c'è De Bruyne e Hazard ma c'è Danfris e sulla sinistra non si sa ancora chi è il titolare perché Gosens è quello che è e hai degli esterni che non saltano l'uomo e che poi tra virgolette riforniscono pochissimo l'aria ogni cross perché se non salti l'uomo crossi almeno tu crossi dalle tre quarti molto semplici giochini ecco quali sono i miei dubbi su Lukaku quali erano prima che cominciassi la stagione e quelli sono oggi questo è il mio punto di vista non ho la strada di ristallo questo è solo ed esclusivamente il mio punto di vista poi passiamo a Barellino anche di Barellino disse la stessa cosa grande giocatore Barella ci mancherebbe però con i zaghi sempre cose dette a giugno non renderà mai come con parrucca perché perché Barella laddove laddove viene laddove viene richiesta un po' di pulizia di palla un po' di pulizia di palla dove un po' viene richiesta pulizia di palla pulizia di passaggio lettura tattica perché questo è l'attività di in zaghi al centro campo lui dura fatica dura fatica lui dura molto a fatica perché lui è perfetto non per chi fa un gioco propositivo ma Barella è perfetto per chi fa un gioco speculare ed è lì nel gioco speculare che le sue fiammate fanno paura capito perché Barella è un grandissimo portatore di palla da punto a a punto b porta la palla a 200 all'ora ti ribalta l'azione nel gioco di zaghi viene richiesta lettura di palla pulizia di passaggio si pulizia di passaggio pulizia pulizia proprio della palla quando viene riconquistata e lettura tattica lui lì dura fatica però nel gioco non per prendere sempre parrucca ma di riferimento ma lo devo prendere e ciò di parrucca è un top player Barella nell'Inter non gioca da top player gioca da grande giocatore capito poi anche a Eoinzaghi Barellino c'ha questi sprazzi di classe come parlavo prima con mio amico Michele indipendentemente dalla fatica è a volte dura durante la partita che manda tutto in contraddizione perché poi Barella c'ha questi ampi di classe tipo l'assist che ha fatto a Brozovic cioè quella è un assist da un trequartista con due ball sotto in questa maniera cioè telecomandata quella palla eccezionale che ha dato a Brozovic contro il Torino cioè quelli sono gli sprazzi di classe poi a Barella che ti manda tutto in contraddizione però è molto più forte in una squadra che gioca in maniera speculare non in una squadra che ha un atteggiamento positivo che fraseggia il centro campo che deve verticalizzare che vengano richieste le cose che ho appena detto lettura di palla lettura tattica passaggio di palla polizia di palla lettura tattica e via discorrendo questo è quello che penso io che questi due giocatori per come la vedo io indipendentemente ora piano per rimettere Barella in forma piano per cioè prima di rimetterli in forma fisicamente ci può stare non sono dei cyborg no soprattutto Barella gioca interrottamente da anni ormai Conte lo faceva giocare anche con le infiltrazioni contro squadre di media fascia di media fascia io prima di metterli a posto fisicamente incomincierei a pensare di come farli rendere meglio sul campo a livello tattico di come poterli mettere meglio a suo age ma questo purtroppo in questo 352 sì dove comunque viene viene espresso un atteggiamento propositivo ma è un 352 schematico è sempre quello poi alla fine anche perché a parte Barella per esempio non ha più a chimio a volte dura fatica anche Danfris perché se Barella non fa determinate cose dura fatica anche Danfris e e viceversa maggior ragione lascia perdere i giapponesi ti ho detto lascialo stare a maggior ragione dove hai una squadra che nessuno è in grado di saltare l'uomo e questa è una roba assurda secondo me non ce n'è uno a santi luogo ecco quello ti volevo dire poi dopo prossimo video ci avviciniamo all'udinese e a questo orario che comunque è scandaloso orario di pranzo la guarderemo anche all'ora di pranzo ci mancherebbe non è una partita semplice ecco questa questa è un'altra partita complicata dopo la passeggiata della Champions League questa è una partita dove subito ti rimisura la febbre per quanto poi ragazzi visto che a me piace prettamente parlare di calcio però noi siamo stati primo canale in assoluto a spiegare a me la dito cosa stava accadendo all'Inter per il cambio di proprietà non siamo stati soli ma siamo stati cioè noi ci siamo distinti soprattutto per le modalità in cui abbiamo spiegato tutto qualsiasi cosa poi qualche errore ci può essere stato ma ragazzi ma vi rendete conto cioè in una manovra così devastante quante cose ci sono quante cose possono accadere però quello che dico io a parte te lo ripeto lasci io questo è un consiglio che ti do io lascia perdere i giapponesi questo è un consiglio mi viene dai profondo di cuore ma a parte questo quello che ti dico io se tutto il mondo parla di questi arabi parla di pif parla di incontri cioè non ne parla di esonerate ne parla tutto il mondo e nessuno parla di americani cioè hanno tirato fuori il nome di un indiano americano e c'è una squadra di basket di basket che ha 900 milioni di patrimonio te lo vuoi capire te lo vuoi capire che la nuova proprietà per l'Inter ha stanziato due miliardi quasi di spesa tra trippole e trappole messi dice in Toscana ti rendi conto che potenza di fuoco serve per acquisire l'Inter gli americani te l'avevano già fatto il prezzo per l'Inter 850 milioni era quello il prezzo che avevano fatto gli americani nessun fondo ti darà più di 800 milioni nessuno chi è che ti dà un miliardo e due per l'Inter se non loro chi è che i nomi di questi americani chi sono questi consorzi agrari chi sono questi americani fateci l'indiano lascialo perdere 900 milioni di patrimonio dove vai cosa fai fai all in sull'Inter questo indiano qui poi voleva entrare come socio nell'acquisizione dell'Inter voleva entrare come socio nell'acquisizione dell'Inter ma dove come fai con 900 milioni di patrimonio ad acquisire l'Inter io ti dico da per 400 miliardi come 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 bin salman 430 440 ma dove vai con 900 milioni a comprare l'Inter fate i nomi di questi americani chi sono chi sono non li fate i nomi perché non esistono americani eppure vi stanno mandando anche dei segnali no ma ragazzi voi voi non volete lascia perdere i giapponesi ti dico quello lì va lasciato perdere tanto non fa paura a nessuno le sue minacce poi vedremo chi chiude dopo lascialo perdere i giapponesi non esistono americani arrivano loro non esistono americani ha 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 oh